musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma sedetevi comodi mettetevi la cintura se non ce l'avete perché il video di oggi ragazzi è veramente veramente incredibile parleremo di alcuni leaks allucinanti relativi ovviamente ai prossimi giorni della season 7 vedremo un villaggio segreto nascosto sotto il grande iceberg che racchiude in sé il castello parleremo ragazzi di alcune curiosità e tratteremo e ascolteremo anche dei file relativi ad uno degli interrogativi più grandi di questa stagione ovvero sia la spada che tiene in mano la skin finale nel trailer e nell'immagine di fortnite ufficiale quindi ragazzi mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun video e nessun aggiornamento di fortnite prima di iniziare però ragazzi vi faccio la domanda ve la devo fare ve la devo fare ragazzi secondo voi arrivati ad oggi qual è la vostra cosa preferita della season numero 7 ditemelo ditemelo la mia è per il momento l'uscita delle skin di natale mi piace davvero tantissimo quindi ragazzi ciancio alle bande bando alle ciance cominciamo subito subito a vedere la prima immagine che è lo spray che viene dato a tutti quelli che hanno la skin galaxy è stato scoperto ragazzi nei file di gioco quindi è confermato al cento per cento che arriverà ragazzi è un lama che come vedete ha il lo stile della galaxy skin e vi garantisco che questo spray verrà dato prestissimo a tutti i possessori della skin galaxy quindi gg per epic games che fa questi regali sicuramente molto molto graditi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo appunto del grande iceberg che c'è al centro della nuova parte innevata uscita con la season 7 quelli che state vedendo ragazzi saranno le tre fasi che sono state scoperte in cui il ghiaccio si scioglierà e rivelerà appunto il castello quella che state vedendo ragazzi è la prossima fase che vedremo per noi sarà la prima fase in assoluto e dovrebbero durare all'incirca tre settimane quindi potrebbe esserci un sacco di roba in più al momento dello scioglimento del castello questa è la prima ragazzi questa è la seconda fase e questa è l'ultima quindi ragazzi quando arriverà così il cubo di ghiaccio si scioglierà completamente e come vi stavo annunciando ragazzi c'è un grandissimo glitch che è stato scoperto da un utente e ragazzi ha svelato in anteprima mondiale il villaggio segreto nascosto sotto al castello vi voglio lasciare ragazzi e voglio lasciare vi voglio far vedere questa clip ditemi ragazzi cosa ne pensate che dire ragazzi veramente veramente incredibile sotto al castello c'è un villaggio un piccolo borgo che contiene chest munizioni scatole di munizioni e qualche piccola casetta quindi ragazzi ovviamente non vediamo l'ora che venga rivelato e portato ufficialmente sul nostro battle royal ma andiamo avanti ragazzi parlando di una cosa importantissima sono ragazzi le tre nuove skin o meglio i tre nuovi stili che sono stati scoperti per il cavaliere rosso il cupido che dovrebbe essere il ranger dell'amore e il raven ragazzi abbiamo nei file di gioco tre nuove skin dedicate al winter quindi all'inverno che potranno essere selezionate come stile personalizzato per una di queste skin non sappiamo altro a riguardo le abbiamo solamente viste ragazzi appunto nelle sottocartelle e quindi un'altra cosa incredibile che lascerà il segno e il ricordo per tutti i giocatori di questa season quando la season terminerà ragazzi parliamo però di un update del più importante in assoluto che è arrivato ragazzi nella season 7 lo abbiamo chiesto tutti fin dalla terza season ci hanno ascoltato dopo quattro stagioni ma ragazzi finalmente al parco pacifico la macchina vicino al garage è stata portata indietro grandi finalmente ragazzi non dovremo più fare le evoluzioni per riuscire ad entrare nel garage e prendere il chest questa macchina l'abbiamo chiesto tutti tutta la community lo chiedeva da mesi e siamo stati ascoltati quindi grazie ad epic games potremo adesso accedere al garage senza nessun problema ma ragazzi parliamo e chiudiamo perché devo farvi sentire per tre minuti dei file audio interessantissimi sto parlando ragazzi appunto della spada che è presente sia nel trailer di fortnite che nel in alcune immagini che sono presenti appunto ufficiali una spada che molti si chiedono quale sia la sua utilità l'abbiamo vista anche negli standardi sbloccabili del pass battaglia e abbiamo scoperto ragazzi che quasi certamente arriverà una modalità a tempo limitata tempo limitato dove si potrà utilizzare la spada e quasi sicuramente ragazzi potrebbe diventare la prima arma da mischia di fortnite sappiamo che in molti fps c'è il coltello quindi per fare appunto gli attacchi stilt da dietro noi ragazzi non sappiamo bene come verrà inserita e a cosa servirà ma abbiamo un sacco di file audio che voglio farvi sentire quindi ragazzi io mi fermo qua con la videocamera vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un super pollicione in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale vi mando un abbraccio e vi lascio con un sacco di file audio interessantissimi a presto ciao 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 ciao